Io sono ThePokers e oggi siamo in compagnia di... Ripico Vi spiego... è un video diverso da lo solito Oggi cercheremo di vincere una partita di COD2 Stando solo su un elicottero Sempre se non moriamo prima La nostra Andai Sono morto Vabbè prendi l'elicottero Atterro su... prendo io l'elicottero Non lo sai guidare Sali Veloce Esatto noi staremo il più in alto possibile Ma mi sa che c'è la... c'è la benzina Catti C'è ok No No cosa sta succedendo Comunque se la benzina è anche questo è finito Pinga un altro elicottero Uno qua Oppure sulla barca Ok aspettiamo che finisce Anzi no La challenge di oggi è Dobbiamo vincere una partita di COD2 Cercando di restare su un veicolo Che sia elicottero, barca, macchina L'importante è che è un veicolo Dain se tu vuoi usare già la barca Se vuoi usare già la barca E... e... se no con cosa andiamo? Barca Allora prendiamo una macchina dopo Sto per finire la benza C'è una macchina C'è una macchina La vedi in basso Ma c'è gente dentro la macchina Chiudere la barca e poi la macchina Aspetta c'è ancora il benzina Ok allora Andiamo Però dobbiamo avvicinare Prima una macchina No c'è il COD C'è il COD No però il COD Sono troppo E... dobbiamo andare Io mi butto Guido io Aspetta non mi fa Sto scassinando Ok sali Sali Cambio posto Dobbiamo tornare indietro E' l'unica Solu... E' l'unica soluzione C'è la benzina Non possiamo prendere il coraggio perché non possiamo scendere Beh Vabbè io vado in barca No in realtà se io vado allo shop E salgo sopra la macchina In teoria non scendo dalla macchina quindi posso comprare Dov'è la... Eh no è lì Aspetta Guarda salgo sul tetto Avvicinati Aspetta Avvicinati ancora un po' Avvicinati Ok Sì Che genio No le ho preso una sola perché non c'avevo i soldi Vai Vai Stadi sul tetto Vabbè La posta Dietro qua c'è ne aspetta Vai indietro Vai indietro Vabbè c'è il code 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 dove prendere il code perché è morta la macchina Sali Eh Apri con la cassa Apri con la cassa Apri con la cassa Aspetta Vai Mi sono stupato Abbiamo due barche un sommergibile e un motoscafo No teniamoci sommergibile per le situazioni Non è un sommergibile tipo Sali È a due posti no? Sì È tipo una barca dove c'è una mitra di letto Sì Qua c'è un altro Prendi questo Tu prendi questo Adesso sei sceso Vai Torniamo indietro Sai guidare Non abbiamo più accesso alla rete nemica Stavolta si è andata male Mi sono incastrato No aspetta Dove voglio spostare il mio motoscafo Ok Ok ci sono Dove andiamo? Aspetta Aspetta vediamo se c'è un posto per passare in safe Sì Dobbiamo andare qui Riusciamo forse A passare da di qua No Sì dobbiamo fare un pezzo di safe Ce l'hai fatta Sì Rampettino No Non ci credo No No Aspetta Lo faccio spostare Ok ci sono Vieni Oh Eh vieni tu Aspetta ne approfitto per prendermi una cassa Vieni Portami alla barca di qua Qua c'è una barca Portami lì A sinistra A sinistra Non stai andando a sinistra Ok Dov'è? Qua Ma io No Di qua no 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 Aspetta io mi ripieno il motoscafolo No Perché Non avevo il veicolo E stavo Eh ma non avevo Ma va Torniamo indietro Aspetta non c'è Dobbiamo scendere a trovare il veicolo per forza Non c'è i soldi C'è un problema Cerca Cerca dei veicoli Non ci sono dei veicoli E devo andare per forza Vabbè ragazzi ci vediamo al secondo game Dove proveremo Esatto Come siamo andati a prenderci due elico a tre ore Andiamo qua Se non c'è gente C'è uno Allora dateci il consenso di ucciderlo per continuare Dai Anch'io Ho solo un cecchino però No Mi hanno tirato un attacco mortaio Aspetta la cella è già andata un po' Beh la challenge ora continua Tanto ho un Eh no ma va Ci ha tirato un mortaio Se com'è A terra uno L'ho mozzato tutti e due L'ho mozzato tutti e due Cioè l'ho mozzato L'ho mozzato uno con la macchina Ok possiamo continuare All'10 Non nove e mezza Sali Anzi no Io Cioè si sali se vuoi Però da me all'9 Verso le 9 Verso le 9 Oddio Non mi ha scorto Andiamo a prendere Per l'altro Sali muoviti Eh solo perché C'è un altro C'è un altro C'è un altro C'è un altro Elicottero Qua è perfetto Ho tirato sotto Ho tirato sotto Ma hai visto che ve l'ho fatto Come ho No No spingi spingi Non c'è nessuna ricotta Il pilota è una macchina No Ho ucciso uno Facendo esplodere No Ma io sto sulla barca Vado dove ti ho pingato E' andato i velpi Dove era il mio pink Scusami Qua Pink giallo Sto andando Io sono Ma non fai Sei su una macchina Ok Devi prenderti una 9 però Qua c'è una Guarda Anzi no 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 Io ho preso Io ho preso Quella gigantesca No è tuo Io ce l'ho già Raga scendo un attimo A prendere questa cassa Se vuoi salire Aio Sali Prendere la mitraglietta Si sparano Dai sali Qua si Ce c'è Ce c'è Ce c'è Entra No Ma io lo sto Prendendo lunga In realtà A bordo Con la 6 Guarda Guarda Infatti Ah si No Arriva la 6 Basta sperare che ci sentano Allora Scegli Io sono in safe Oh Ho il posto perfetto Vieni qua sotto Qua sotto puoi restare Ragazzi qualche arma dovete farcela prendere Sennò diventa un po' difficile Ma da usare un ce È scappato È scappato C'è una cassa di corazza Dov'è il mio Su Eh io non faccio Non faccio Ma mi sto incastrando Arriveranno altri challenge Sì Esatto Solo se tutti i video Tutti e due i video Raggiungono i 5 mi piace Sia il tuo che il mio Sia quel tuo che stai registrando adesso Sia il mio Sì No niente Intendo Intendo quello che stiamo facendo adesso C'era gente qua Eccoli Spara 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 Retro Oh ma segui da meglio il retro sta roba No non siamo più in safe No forse siamo in safe Però dobbiamo uccidere quel team là No dobbiamo Sì solo se uccidiamo il team Dobbiamo uccidere che ci siamo safe Spara No forse non siamo safe Neanche qua Dietro Ah sei là Spara Ok Spara che io continuo a guidare Aspetta sono morto Eh fra dobbiamo andarcela Dobbiamo salire sopra Sopra qua c'è un quad Dobbiamo prendere quello e scendere giù Non so da dove si sale C'era un quad qua eh Aspetta Aiuto Paura Ansia Ahia Gente Sono sopra Non si può prendere No è la che ci mira No è la che ci mira Esatto E noi ci vediamo nella live di stasera Ciao